Spacciatore e assuntore, si sa, vanno a braccetto e proprio in questo agosto affoso, dove il consumo di stupefacente non va in vacanza, alla repressione si aggiunge il supporto a chiamata dell'unità di strada. Un test per quello che dovrà essere il progetto che i servizi sociali metteranno in campo, probabilmente in autunno. Intanto però una così consistente stretta su campo marzo ha portato al verificarsi di un altro fenomeno. È naturale che probabilmente provino a spostarsi nel Viale Mitrofe, tra Viale Milano, San Felice eccetera. Questo è un fenomeno che stiamo appunto anche noi notando. Il buco, la dose, fatta a cielo aperto in pieno giorno dietro ad un albero semi appartati dietro al moresco piuttosto che tra le giostre dei Otto. È diventato l'altro grande problema assieme allo spaccio di campo marzo e zone giardini limitrofi. Da venerdì è partito un controllo a tappeto giornaliero di polizia, carabinieri e polizia locale che si protrarrà per tutto il mese di agosto. Una nuova offensiva contro un fenomeno purtroppo dilagante. Riceviamo moltissime generazioni in questo periodo estivo, quasi quotidiane, di molti tossici e spacciatori che chiaramente durante l'arco della giornata passeggiano e creano chiaramente disturbo al decolo. Gli interventi, quelli ultimi, recenti da parte delle Forze dell'Ordine sicuramente sono un ottimo segnale. Questo però non deve far mollare la presa su campo marzo ed anzi il comitato incalza le autorità il passo successivo ed atteso verso quei soggetti ricidivi e conosciuti. D'altro canto speriamo che il questore possa cominciare a emanare i primi provvedimenti di daspo urbano allontanamento a foglio di via che aveva promesso verso questi soggetti.